In questo numero, i consigli dell'esperto per un'alimentazione corretta nei 9 mesi di gravidanza. Lorenzin stigmatizza la controcultura antivaccini e il calo della copertura contro il morbillo. I medici a Salvini, dobbiamo curare tutti. E ancora, nuovo allarme in Francia, sospetto legame fra protesi al seno e rara forma di cancro. Stop a morbillo e rosolia entro il 2015, ma l'Italia è ancora lontana dall'obiettivo dell'OMS. Il vero o falso di questa settimana parla di iniezioni di acido ialuronico contro l'artrosi. E per concludere le news scelte per voi dalla redazione. Gravidanza e alimentazione, tanti i dubbi delle donne italiane. Esistono dei cibi vietati o dei cibi raccomandati? La parola all'esperto per chiarirli. Direi che l'individuo, la donna in particolare, è un onnivoro anche nello stato di gravidanza, non soltanto al di fuori di essa. Quindi può mangiare tutto. Ci sono alcuni cibi pericolosi, essenzialmente di pericoloso c'è soltanto l'eccesso del cibo e tutte quelle sostanze possono essere dannose anche al di fuori della gravidanza. In particolare, diciamo, il rischio peggiore che oggi corrono le donne è l'alcol. Le donne giovani tendono a abusare, soprattutto le nuove generazioni, di questa sostanza e il feto soffre di questo. Per quanto riguarda altri cibi, attenzione di non abusare di ciò che è tendenzialmente allergenico. Alcuni di questi cibi sono per esempio i crostacei o tutto quello che determina l'allergia anche al di fuori della gravidanza. Tutto sommato non c'è bisogno di una grande quantità di cibo in più. Nel primo trimestre di gravidanza una donna a normo peso può assumere 100, 150 calorie in più che corrispondono al normale, che corrispondono a ben poco, diciamo, un pochino di pasta in più rispetto a quella che normalmente mangia. Al termine di gravidanza questo magari si può raddoppiare 300 calorie, diciamo, in più della norma. Siccome noi abbiamo bisogno di 5 elementi, a parte l'acqua e di quella, certo non bisogna mai difettare, abbiamo bisogno delle vitamine, dei sali minerali, dei lipidi, delle proteine e dei carboidrati. Bene, siccome dobbiamo aumentare un po' l'apporto calorico, è bene che le calorie che andiamo a modulare e ad aumentare, le dobbiamo prendere essenzialmente dalle proteine, abbassando, se possibile, l'assorbimento dei grassi e soprattutto di quei grassi che noi chiamiamo poi l'insaturi, quelli animali, o anche i grassi vegetali, quando si frigge, per esempio, quando arrivano al punto fumo diventano saturi, quelli vanno evitati. Quindi l'olio crudo, un pochino, sicuramente le proteine della carne e i carboidrati più o meno nella stessa quantità di quando non sia in stato interessante. Un prezioso strumento di sanità pubblica e prevenzione, minacciato da preoccupanti fenomeni di controcultura antivaccino. A evidenziare l'importanza dei vaccini a livello globale e di valenza strategica per i nostri paesi e l'Unione Europea, è il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nel suo intervento a Parigi, la seconda assise nazionale del vaccino. Lorenzin ha ricordato che nel semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea abbiamo cercato di definire, tra l'altro, una visione strategica coerente con il progresso in atto nel campo dei vaccini e soprattutto con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di controcultura antivaccino. Fenomeni che in Italia, ma anche negli Stati Uniti, con la recente epidemia partita nei parchi Disney, hanno avuto effetti pesanti per quanto riguarda la copertura antimorbillo. Ancora oggi, infatti, le malattie infettive continuano a rappresentare una minaccia per la salute e la sicurezza globale. Molte patologie infettive, apparentemente sotto controllo, possono tornare a rappresentare un pericolo. Una riemergenza che richiede di definire e realizzare azioni di contenimento e contrasto altrettanto innovative, dice Lorenzin, che cita proprio il caso del morbillo. Nell'anno 2000, su 1,7 milioni di morti infantili dovute a malattie prevenibili con la vaccinazione, circa il 46% era attribuibile al morbillo, che può causare serie complicanze come l'encefalite e la panencefalite sclerosante subacuta, fino al decesso. I clandestini hanno diritto a cure gratis. La Lombardia ha speso 100 milioni e è stato le rimborsa zero. Io sospenderei cure a clandestini. Lo scrive in un tweet il segretario federale della Neganord, Matteo Salvini, che in un successivo tweet aggiunge «Sono stufo di questa vergogna». Dichiarazioni che hanno suscitato la reazione dei medici. Le parole di Salvini sono fuori luogo, afferma Maurizio Benato, vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e vanno contro sia l'articolo 32 della Costituzione, che garantisce l'assistenza e le cure gratuite, non solo a chi è cittadino italiano, ma come diritto all'individuo e interesse della collettività, sia al codice deontologico della professione, in base al quale i medici devono curare tutti gli individui. Senza distinzione di etnia o religione. Nuovo allarme legato alle protesi mammarie in Francia. Un rapporto del Ministero della Salute d'Oltralpe parla di una forma rara di tumore che sarebbe fino a 200 volte più comune fra le donne che hanno ricevuto un impianto al seno. Gli esperti avrebbero infatti rilevato un nesso preciso tra 18 casi segnalati di linfoma anaplastico a grandi cellule e la presenza di protesi mammarie. Si tratta comunque di un numero di casi molto limitato, dato che dal 2011 sono state circa 400.000 le donne che in Francia si sono ritoccate il seno. Ma sono in aumento di anno in anno e questo sta facendo preoccupare gli studiosi. In Italia al momento sono quattro i casi di questa rara forma tumorale per la quale si sospetta un legame con le protesi al seno. Donne che avevano avuto un tumore al seno e che si erano sottoposte a ricostruzione mammaria, ha spiegato Adriana Bonifacino, responsabile dell'unità di senologia dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove sono stati registrati e studiati i quattro casi. Situazione che ha portato il Ministero della Salute a inviare a tutte le società scientifiche, agli assessorati e alla Direzione Generale Sanità Militare del Ministero della Difesa, una circolare con l'obbligo di segnalare allo stesso Ministero i nuovi casi di questo linfoma raro che potrebbero essere collegati alle protesi al seno. Eliminare morbillo e rosolia entro quest'anno è l'obiettivo posto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma l'Italia ancora lontana dal traguardo. L'argomento è stato al centro della due giorni di meeting tra la Commissione OMS, i rappresentanti del Ministero della Salute e altri esperti italiani di sanità a Roma. L'incontro era stato richiesto un mese fa dalla Commissione OMS per l'eliminazione di morbillo e rosolia congenita per via dei dati italiani ancora incompleti. Nel nostro paese, precisa Susanna Esposito, presidente della Commissione OMS per l'eliminazione di morbillo e rosolia congenita, le coperture vaccinali sulla prima dose si attestano intorno al 90%, a fronte dell'obiettivo minimo del 95%, mentre quelle sulla seconda dose, introdotte nel 2005, risultano ben inferiori agli standard richiesti, meno dell'85%. In Italia, quindi, gli obiettivi di copertura vaccinale necessari per l'eliminazione del morbillo e della rosolia non sono stati ancora raggiunti. Il morbillo è una delle principali cause di morte in età pediatrica e adolescenziale, nonostante sia disponibile un vaccino sicuro ed efficace e chiunque può essere infettato. In media, infatti, negli ultimi anni, il 40% circa dei casi in Europa si è verificato in persone con più di 14 anni d'età. In Italia, secondo dati dell'Istituto Superiore di Sanità, dall'inizio del 2013 sono stati segnalati 3.943 casi di morbillo, di cui 2.251 nel 2013, 1.680 nel 2014 e 12 nel 2015. Riguardo i casi di rosolia, dall'inizio del 2013, sono stati segnalati 95 casi, di cui 66 nel 2013, 28 nel 2014 e 1 nel 2015. È vero che l'artrosi si combatte solo con l'uso di farmaci antidolorifici? È falso, perché l'artrosi si giova di trattamenti farmacologici e non farmacologici. L'iniezione intrarticolare di acido ialuronico può intervenire sull'artrosi del ginocchio e dell'anca? È vero, può intervenire in tutte le articolazioni effetti dell'artrosi. L'iniezione intrarticolare di acido ialuronico è indicata per tutti i pazienti? Falso, perché i pazienti con stato avanzato e radiologico avanzato dell'artrosi non si beneficiano di questo tipo di intervento. È vero che l'iniezione intrarticolare di acido ialuronico è dolorosa? È falso, l'iniezione può essere fatta senza l'uso di anestetico perché è solo un piccolo fastidio. L'iniezione intrarticolare di acido ialuronico non va ripetuta? Falso, l'iniezione va ripetuta perché il trattamento è un trattamento ciclico. È vero che non ci sono complicanze infettive con l'iniezione intrarticolare di acido ialuronico? È vero se il trattamento viene fatto con tutte le precauzioni, cioè sterilizzando accuratamente la pelle e usando i guanti quando si fa l'iniezione. Dalla ricerca italiana nuovo passa avanti sul fronte della medicina rigenerativa. Tessuto muscolare scheletrico coltivato in laboratorio, partendo da cellule staminali adulte e poi impiantato nella zampa di un topo, ha dimostrato di funzionare e di riuscire in poche settimane a integrarsi perfettamente con le fibre muscolari naturali circostanti. Lo studio è frutto di una ricerca internazionale che vede l'Italia in prima fila, con l'Università di Roma d'Alvergata, l'Università degli Studi di Pavia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma e l'IRCS Multimedica di Milano. Gli scienziati invitano tuttavia la prudenza, sottolineando che prima di passare i test sull'uomo sono necessarie nuove indagini precliniche. Non esiste malattia per cui vi sia una prova attendibile dell'efficacia dell'omeopatia. Non solo, non c'è ragione fondata per dire che funzioni meglio di una pillola di zucchero. E le persone che vi si affidano possono mettere a rischio la propria salute, rifiutando o ritardando trattamenti per i quali esiste una buona evidenza di efficacia e sicurezza. Suona con una sonora bocciatura per la medicina dolce la conclusione di un rapporto redatto dal Consiglio di Ricerca Medica australiano, il massimo organismo nazionale per la ricerca medica, che ha condotto una maxi-review su 225 pubblicazioni in tema di omeopatia. I medici di famiglia più anziani dovrebbero ridurre il loro orario di lavoro concludendo la giornata di visita alle 16 del pomeriggio. Lo suggeriscono le nuove raccomandazioni elaborate dal National Health System England South. Le linee guida evidenziano come nelle ore pomeridiane l'attenzione e la concentrazione dei camici bianchi con le tempi grigie tendano a ridursi. Una margherita italiana per aiutare la lotta ai tumori. Torna l'iniziativa solidale promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Fino al 25 aprile il fiore simbolo della primavera sarà proposto in oltre 50 centri giardinaggio associati all'Associazione Italiana Centri Giardinaggio in 11 regioni della penisola, che venderanno migliaia di piante di margherite al prezzo di 4,50 euro, di cui 1,50 euro saranno devoluti ad AIRC. L'obiettivo è finanziare per un anno una borsa di studio di un giovane scienziato. Anche quest'anno Enzo Iachetti sarà il testimone della campagna, lanciata per la prima volta nel 2014. Vermatologi preoccupati per il fenomeno crescente delle resistenze batteriche agli antibiotici, unica arma contro le infezioni cutanee. Da circa 15 anni non ne vengono immessi di nuovi sul mercato e tutto lascia supporre che per i prossimi 5-7 anni non vi saranno new entry. A lanciare l'allarme è Roberto Mattina, direttore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dell'Università degli Studi di Milano, che sottolinea la necessità di istituire un osservatorio per mappare la situazione e monitorarla. Si chiama Romeo, da Radiation Oncology Metacampus Organization, il nuovo network di collegamento tra dipartimenti di radioterapia italiani pensato per condividere conoscenze e percorsi di ricerca in campo oncologico. Nato per iniziativa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il network è realizzato in videoconferenza attraverso il servizio fornito da Join, provider italiano, leader nel mercato europeo del cloud conferencing. Mettere insieme lo sforzo di comprensione delle nuove conoscenze in una modalità fattibile è stata la prima e principale motivazione per creare questo network, spiega il professor Vincenzo Valentini, direttore del Gemelli Art Advanced Radiation Therapy di Roma. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata!